Il nuovo Catania targato Pelligra vede ufficialmente la luce. Il passaggio formale è stato compiuto oggi alle 9.30 con atto notarile a Venezia, seguito da un comunicato della nuova società denominata Catania SSD, che ha sede ovviamente nelle capologhette neo in via Musumeci. Compongono il consiglio d'amministrazione della neocostituita società sportiva dilettantistica, il presidente Rosario Pelligra, il vicepresidente, l'amministratore delegato Vincenzo Grella ed il consigliere d'amministrazione Giovanni Caniglia. Catania SSD richiederà ufficialmente l'iscrizione al campionato di calcio di Serie D 2022-2023. Sono orgoglioso, felice ed emozionato, ha commentato Pelligra. Mi affiancano professionisti molto qualificati che dovranno sviluppare un programma vincente e l'intera città di Catania, che ringrazio pubblicamente per l'accoglienza ed il supporto. I tifosi ci offrono sostegno, entusiasmo e quella fiducia che dovremo sempre coltivare, mai sprecare il Catania e della sua gente. La proprietà è una responsabilità sociale e giuridica ben precisa che io porto con fierezza. Lo stemma della società Catania SSD sarà mostrato al termine delle procedure di registrazione del marchio. Nelle prossime ore si conosceranno i componenti dell'intero organigramma, compreso il nuovo direttore sportivo.